Ciao a tutti! Bentornati sul nostro canale! Mamma vita è figlio Gabri! Ciao! A grande richiesta, visto che in tanti ci hanno chiesto la seconda parte del video di Tocca Life, perché dovevamo continuare a costruire la nostra casa. Quindi, partiamo! Sei pronto? Sei pronto figlio Gabri? Sì! Andiamo! Costruiamo la nostra casa! Allora, vediamo dove eravamo rimasti. Come state? Come state? Noi stiamo bene. È notte! È notte! Allora, uiii! Accendiamo la luce! Allora, giorno! Giorno! Dov'è la nostra casa? Cerchiamola! Eccola! Eccola qui! Vediamo dove eravamo rimasti. È vero! Avevamo... Aiuto! Avevamo creato i nostri personaggi. Maggi! Eh sì! Ecco, abbiamo creato la cameretta. Qua! Cosa ci manca? Allora, abbiamo creato la cameretta, poi il soggiorno. Non ho che questo è nuovo! È nuovo, certo! Poi abbiamo creato il bambino. Ci hanno messo? Sì, ecco cosa ci manca. La cucina! La cucina! Ecco, quindi creiamo la cucina. No! No, vero, giusto! La cucina. Quindi? No! Andiamo a cercare... Ma le faccine! Ma le faccine le mettiamo quando giochiamo? Sì! Ora dobbiamo creare la cucina. Quindi andiamo di qua. Brava! E cucina? Cucina! Eccoci! Frigorifero! Frigorifero! Però secondo me la cucina è un po' piccolina. Sì! Poi cosa ci serve? Un tavolo? Tavolo! Questo! Quello lì, bravissimo! Poi ci serve? Un... Un... Ah! Ecco qua! Il rubinetto, il fuoco... Al contrario! Al contrario, ok! Poi? Quello lì, bravo! La sedia! Le sedie? Noi siamo due! Siamo due! C'è anche papà, quindi tre sedie! E' vero! Però non l'abbiamo fatto ancora vedere! Eh sì, lo faremo vedere presto! Il papà di Gabriele! Ecco, tre sedie! No! Poi... Queste così erano! Così? La mia cosa è di papà e questa è di mamma! Ecco! Perfetto! Ora cosa ci manca? Quindi il bagno l'abbiamo fatto! La cucina anche! Allora... E vediamo cosa ci manca! I personaggi! I personaggi! Eh... Non siamo quasi... Ma tu ci sei? Ma fatta che controllo! Vediamo dove è figlio Gabri! I personaggi! Ip! Allora... Vediamo... Questa è mamma! Ma secondo me il figlio Gabri l'altra volta si è perso! Eh sì! Vogliamo farlo di nuovo? Sì! Dai! Facciamo ancora figlio Gabri! Ecco! Perché anche l'altra volta è scomparso! Dove è andato? È uscito a fare la spesa? Eh sì! E non è più tornato! Però qui ci sei... Guarda! Cancelliamolo! Cancella e rifallo, dai! Ecco! Abbiamo avuto un problemino con il tocca a word! Ora rifacciamo figlio Gabri! Così, per chi se lo fosse perso, facciamo vedere come si fa! Allora... Quindi si scelgono i capelli... Ip! Lo so! Se vi siete persi il nostro video precedente, cliccate sul video sotto e lo troverete! È vero? È vero! Andate a cercarlo! Calo! Perché è bellissimo! È bellissimo! E iscrivetevi al canale e lasciate tanti simi 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 like! Eccoci! Nel frattempo figlio Gabri sta creando il suo personaggio! E' un personaggio! E' un personaggio! Così Noemi! E' un personaggio! E' un personaggio! Così! Così? Ok! No! No? Non ti piace? No mi piace! Così! No! No! Così! No! Ok! Sopracciglia? Le sopracciglia? Le sopracciglia! Eccole! Il colore devi cambiare! Aspetta! Anche questo! Sono rosa! Ok! Non sono rosa! Non sono rosa! Non sono rosa! Qui devi cambiarle! Devi cambiare il colore! Allora! 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 Si va lì e si cambia! Ecco! No! Marroni! Eccoci! Marroni! Però le fatti viola! Ah! Ecco! Ora sono marroni! Sì! Così sono! Va benissimo! Viola! Salva! No! Devi cambiare la carnagione! Il colore della carnagione! Sì! Lì! Rip! Eccoci! No! Rosso! Ecco! Perfetto! Naso! Naso! Andava bene anche così! Andava bene anche così! Vediamo! Eccoci! Ecco! Ora dovrebbe salvarlo! Vediamo! Vediamo! Torna indietro! Eccoci! Ora proviamo a scoprire come si gioca questo Toca World! Quindi cerchiamo! Vediamo! Qualche ambiente! Ah! Eccolo! Mamma vita! Figlio Gabby! Mamma vita! Mamma vita! Dove sei? Scomparcia! Mamma vita! Così? E quindi ci sono solo io! Mamma vita non c'è? E dov'è? E dov'è? E dov'è? Vediamo dov'è! Giochiamo nel frattempo! Mamma vita tornerà! Tornerà? No! Sì! Non mi fai così! Io voglio un animale! Allora! Io voglio un animale! Prova a vedere! E questo! Questo vuoi? Cos'è questo? Non lo sto giocando! Che bello! È questo! Cos'è questo? È un pan di zenzia! È un pan di zenzia! È dovuta dormire! Ah! Anche io voglio dormire! Anche tu vuoi andare a dormire? Dì già! Sì! Forse devi abbassare! No! Tu vai sul divano! Whip! Ah! Ecco! Lo metto qua! Wow! Buono! Non l'ho mai provato! Per cui volevo dire! Ok! Buona notte! E qua? Adesso è notte! Si va tutti a manna! Mamma vita dov'è? È andata in discoteca? No! Qua è la mamma vita! Qua è la mamma vita! Ma va! Quello è un pan di zenzero! Ora è giorno! Ma c'è la vita che mamma vita! Ora è giorno! No! Adesso è giorno! Proviamo! Ecco! Andiamo in cucina! Vediamo se c'è qualcosa da mangiare! Per la colazione! Non c'è niente! Vediamo! Non c'è niente! Porta in cucina! Fallo sedere! Vediamo! Ecco! Apri il frigo! Qua si è mio! Vediamo cosa c'è! Apri il frigo! Vediamo cosa c'è! Niente! E come si fa? Allora! Allora! Andiamo a prendere qualcosa da mangiare! Eh! Ehm! Ecco! Allora! Vediamo che c'è un po' di cibo in questo frigo! Sì! Latte! Sì! Prendi il latte! Qual è un pomodoro? Sì! Voglio! E lo lasci a terra? Ah! Tutto a terra! Bene! Ok! Ci abbiamo i gatti? No! Lui non mangia il pesce! Ah! Mangia il pesce! E tu mangi il pomodoro? No! Vatta lui! Colazione! Così! Ma il pomodoro in testa! Bravo! Ma come hai fatto? Vedo! Vedo dove faccio! Metti la faccina! Che piange! No! Come si mette la faccina che piange? Qua non si mette! Così! Oh! Sta piangendo! Allora! Aspetta! 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 Vediamo! Così! Aspetta! Così riusciamo a vedere un attimino a meglio! Ok! Uffi! Ora come faccio? Allora! Devi prendere qualcosa per la colazione! No! Vedi che sta piangendo! Che ha fame! No! Perché lui ha i capelli rossi! Ah! Piange perché ha i capelli rossi! E facciamoli ritornare come prima! No! Dai! Come prima! E come facciamo? E come si fa? Vediamo! Io non so farlo! Allora! Non piangi più! Guarda! Vuol dire che ora gli piacciono come sono! No! Perché? No! Ma lui non gli piace! Allora fai così! Guarda! Fai così! Vai qui! E... Vediamo! Allora! Prendiamo prima qualcosa da mangiare! Perché secondo me hanno un po' fame! Mettiamo in frigo un po' di latte! Aspetta! Aspetta per il mamma questo marrone! Cos'è questo? Questa è una salsa! Sì! Eh! Allora! Ok! Ah! Per fare i capelli marroni! Sì! Oh! Nè! Nè! Oh! Ecco! Forse devi andare lì! Qua! 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 Guarda! Vai qui! E devi modificare i capelli che hai colorato, quel povero figlio Gabri! Gabri! Il nostro personaggio! Non ce l'ho più! Nerozolo! Ah! Però qui sono ancora marroni! Ah! Ah! Vedi! Allora provo a tornare indietro! Vediamo! Vediamo! Ma! Lo sai che c'è un'altra casa! L'hanno messa! Eh! Ora dobbiamo scoprirla! Allora facciamo così! Per il momento lasciamo i capelli così! Sì! Ora gli facciamo... Cosa è successo? Ah! Ecco! Facciamo mangiare i personaggi! Perché sicuramente avranno... No! Qua! Mamma! Ah! E' qui? Mmh! Ecco! Allora gli diamo un po' di latte! Un po' di latte per figlio Gabri! E poi vediamo cosa c'è! Ma cosa fai a colazione tu? Il caffè! Il caffè! E qui mi sembra che il caffè non c'è! Andiamo al bar a prenderlo! Aspetta! Io lo so! Si prende una tazza? Sì! Ah! Si prende una tazza! Ah! Ecco! Lì! Lì! Dove è? Questa? Si prende una tazza, sì! Ok! Devi solo truccarci su! Ecco! Ok! Ecco! Wow! Allora ci vogliamo! Allora! Toglio il caffè! Ecco! A me il caffè! Anche se quella non sono io! Comunque va bene! E io il latte! E qui il latte! Vediamo come beve! Vedo! Vediamo! Oh! È setato! Voi se ne lo piume! Voi lo bere ancora! 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 Il povero pan di zenzero è rimasto con la tazza in mano! Allora facciamo bere il pan di zenzero! Ha bevuto e mi sa anche che ha bevuto anche la tazza, non c'è più! È sparita! Ah! Ecco è dietro! Dietro! Ma... Va persa! Non lo fai! Fai bere il caffè! Fai bere il caffè! Ancora! Ah! No! È sul tavolo la tazza! Au! Au! Wiii! Wiii! A! 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 Facciamo finta! Eh ma adesso dico a bere il comodoro però! Eh eh eh! Vabbè è buono! Ora andiamo a scoprire questo mondo! Aspettate! Perché è uscita una nuova casa? Una nuova casa? Andiamo a vedere! Andiamo, vediamo! Lì, 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 amore! La potecina! La potecina! Vediamo cosa c'è? Non è male! Questi gesti che fai, la nuova casa, dov'è questa nuova casa? Aspetta, no, dov'è? Aspetta. Già costruito, ma perché? Io l'ho vista prima. No, no, allora, ora dobbiamo scoprire. No, allora, allora. Dobbiamo esplorare il mondo perché i nostri amici vogliono vedere il mondo. Eh, no, se no adesso la dobbiamo ricostruire. Allora, vediamo, qui, 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 qui. Possiamo andare al supermercato. Al supermercato! Andiamo a fare la spesa! Vediamo, perché il frigo era vuoto. Eh, il nostro frigo era vuoto, quindi... Ma non è un supermercato questo? Un negozio di giocattoli? Sì! Bellissimo! Cosa si può fare? No, è un supermercato. Ah, è un supermercato, ecco. No! C'è tutto. Un negozio di giocattoli? È un supermercato. È un supermercato. È un supermercato. Cosa prendiamo? Allora, noi prendiamo... Io ho fame. Hai fame? Sì. Ancora? Hai bevuto il latte? No! Il serpente. Prendiamo il serpente. Cos'è questo? Un serpente? Si prendiamo il serpente e lo mettiamo a casa. Lo portiamo a casa il serpente. Io vorrei un bel cagnolino. Ok. Scelto. Lo portiamo. Hai scelto? Sì. E poi? Poi... Ah, vedi il ventilatore perché fa caldo. Esatto. Hai messo il ventilatore nella cuccia del cagnolino. Cosa è bello? Così? È un... Ci serve un rullatore. Ok. Qui, vediamo. Un rullatore. Allora. Tu? Doveva comprare? Ma, allora. Vediamo se c'è un cestino. Un cestino. Ma si fa a comprare in questo supermercato? Cestino? Ecco. Prendi un sacchetto, una busta. Ecco. E ci mettiamo le cose dentro. Allora. Dovamo metterci un po' di frutta. Vediamo. Il serpente. Magica. Non va il serpente nel sacchetto. E quindi? I personaggi nostri. Allora. Non ce l'ho. Ecco qui. Questo è il tuo personaggio. Ma quello non è il mio personaggio. Non sono io quella. Wee, wee. E poi il mio personaggio è un cuore nato. Ecco. E lo mettiamo qua. Allora. Io vorrei capire come si comprano. Allora. Io vorrei. Vediamo se il tuo personaggio prende l'insalata. Ah. Ha mangiato già. Ma mangia tutto. Mangia tutto. Ma mangia tutto dai. Stai facendo mangiare tutto il tuo personaggio. Io voglio mangiare tutto. Portiamolo. Qua. Vediamo cosa c'è. Vediamo cosa può fare. Ci sono i giochi. No. La palla. La palla. Per favore. La palla. Dammi la palla. Non gioca. Non gioca. No. L'ha solo presa. Cos'è? Perché sta rubando. Poverino. Torniamo indietro. Lascia la palla. Allora. Andiamo a pagarla. Ok? Sì. Prendi la palla. Figlio Gafri. E andiamo a pagare. Portalo. Portalo alla cassa. Allora. Portalo alla cassa. Arbettate. Wiii. Pagalo. Ecco. Andiamo in cassa. Pagare in cassa. Pagare? Numero. Vai. Un WIP. Pagata. Togliti. Ok? Ecco. Devo darti i soldi. Sì. Ora. L'ho pagato. Ora. L'ho pagata. Esce. Andiamo. E un WIP. Rientra. Ho fatto? Fatto. Ho pagato? Sì. Vediamo se lo fanno uscire senza che suoni. E suona lo stesso. Allora facciamo così. Lascia la palla. No, 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 no. No, come no? E suona. Abbiamo pagato, ma suona. Andiamo a scoprire cosa c'è ancora in questo mondo. E qui suona ancora. E quindi ci nascondiamo? E quindi ci nascondiamo? E quindi ci nascondiamo. Andiamo qui. Mi sono nascosto bene, eh? Eh sì. Io sono un genio. Chissà che fine hai fatto. Vediamo dove possiamo andare. No, io voglio andare. Dove vuoi andare? Forse che metto una casetta qua. Qua. Vuoi costruire un'altra casa? Sì. Perché non creiamo un personaggio amico? Aperta. Questo è già costruito, ti dice? Sì. Eh, ti dice che è già costruito, capito? Un film. Eh. E questo? Allora. Dove possiamo andare. Ma si può acquistare? Questo cos'è? Vediamo. Questo sarà? Ah, ecco. Possiamo. Ecco, è un panificio. Un panificio. Quindi possiamo sederci. Questa è la palla. Possiamo sederci e mangiare. Nel frattempo... Io toghi i panini. Cosa stai facendo? Prendi qualche personaggio. Allora. E lo facciamo mangiare. Ah, ecco la palla. L'abbiamo rubata, ti ruba la palla? Ma... L'abbiamo rubata, l'abbiamo pagata, ma ha suonato lo stesso. Ma... Ecco. Cosa stai facendo ora? Lip. Allora... Io prendo... Un bel gelato fresco. Lip e un whip. Ah, cos'è? Un bel gelato? Sì. Ok. Allora un bel gelato... Un bel gelato fresco. Un bel gelato fresco. Ma... Non posso metterlo in tavola? Eh, l'ha preso. Devi solo poste... Farlo vicino alla bocca e farglielo mangiare. Prova. Ah, è stato mangiato. Ora anche il suo amico. Come si chiama questo amico? Roberto. Roberto. Ah, ha mangiato anche lui, guarda. Sì. Allora... Ora... Gli facciamo chiacchierare. Vediamo... Con le facce, con le facce. Vediamo con le facce. Sì. Allora... Metti la faccia... Questa faccia. La faccia felice. La faccia... Anche a lui la faccia felice. La faccia da... Spezzi cuore. Dà cuore spezzato. Vediamo. Oh, dà cuore spezzato. Allora, vediamo. E lui... Ride. E lui è arrabbiato. Metti la faccia da arrabbiato. Vediamo. Ah, tutti e due l'hai messa. È buono. Questa cos'è? Ah, è una pianta. Ok. Qui cosa abbiamo? La radio. È quello che è sole. La radio. Ecco, a questo signore mettiamo la faccia da furbetto. Faccia da furbetto oppure mettiamo la faccia da... La faccia da stupito. Stupito? Che cosa è stupito? Eh, quando una persona è stupita e resta stupita che vede una cosa che non si aspetta, capito? La faccia da... Addormentato. Mettiamo la faccia da addormentato. Poi, cosa possiamo fare? Poi, cosa possiamo fare? Vediamo. Torno indietro. Ecco, qui. Io dico di costruire. Vediamo. Cosa possiamo costruire? Non possiamo costruire niente. Aspetta. Aspetta, vediamo se c'è. Cosa vuoi? Dobbiamo esplorare perché anche per noi è la prima volta, amici. Quindi esplorate insieme a noi. Qui cosa abbiamo? Vediamo tutto quello che c'è. C'è tanto che non lo vedo. Eh sì. E poi bisogna esplorare per capire come funziona. Eh? Ah, ecco. Questa è la spazzatura. Aspetta. Eh. È un TikTok. Un TikTok. Allora. Che vuole dire un TikTok? Uno short. Ah, vuoi farli giocare? Vuoi farli fare uno short? Sì. Allora tre. No, tre. Mi sembra uno quarto per questo show. Quattro. E questo cosa c'ha? Il colo in testa? Gli è caduto il gelato. E lui. Guarda che ti è caduto il gelato in testa. Guarda che ti è caduto il gelato in testa. Non te ne sei accorta. Non te ne sei accorta. Aspetta. Ora facciamo un TikTok. E come fai a fare un TikTok? Lui. Wip. Mettiamo una macchina. Wip. Oh. Perché la spazzatura ha un cattivo odore. Non so perché hai messo. Questo è un TikTok che ho visto una volta. Oh, l'avevi visto già? Sì. Che bello. Che bello. Bisogna capire qui cosa si fa. Eh, questi vestiti a cosa servono? È per salvare. Questo è questo. Un gattino. L'abbiamo scoperto. Eh, ecco. Wow. Un segreto. Ma come abbiamo scoperto? Un posto segreto? Ma i vestiti. Quelli che possiamo... Possiamo prendere? Sì. Sicuro? Quelli che ho messo come io. Ma io ho messo questi. Allora possiamo prenderli ora. Ma questo sei tu questo con la faccia disgustata. E allora vai a cambiarti. No. No. E poi cosa c'è? Vediamo cosa possiamo scoprire. Allora, ci facciamo un poliziotto? Ah, il poliziotto? Sì, vediamo. Ma sei sicuro che quello è un poliziotto? Sì. Il poliziotto vedi che guardia il fuoco? Il vigile del fuoco, non il poliziotto. Vigile. Non il poliziotto. Ah, ora sì. Ah, sì. Allora. Questo va qua. Wip. E ora il cappello del vigile del fuoco manca. Eh, sì. Mettiamo il cappello del vigile del fuoco. C'è il fuoco. Avete visto, amici, abbiamo scoperto anche un altro posto segreto. E qui bisogna esplorare per conoscere i posti segreti. Ah, wow. Un bel. Wow, il figlio che avrei diventato un vigile del fuoco. Sì. Wow. Ah, la spazzatura mi ho buttata. Anche la spazzatura? La spazzatura. Ora hai buttato via gli occhiali quel poverino lì. Eh, si arrabbierà. E qui. Allora. Ecco. Ha messo il tuo vestito. Hai fatto change? Change. Change. Ecco. Allora, amici, ora il figlio di Gabriel è diventato un vigile del fuoco. La prossima volta continueremo ad esplorare e continuiamo a studiare insieme il gioco di Tocca World. Se vi è piaciuto questo video, mettete tanti like e iscrivetevi al canale. E soprattutto fateci sapere se vi piace questo gioco, perché così possiamo continuare a giocare tutti insieme. E la prossima volta continueremo a scoprire cosa c'è. Oggi abbiamo scoperto che ci sono delle cose nuove, vestiti nuovi, abbiamo fatto un po' di spesa, siamo andati in un negozio. E la prossima volta continueremo a vedere cosa si può fare in questo gioco. Mi raccomando, amici, iscrivetevi al canale, lasciate un like e guardate tutti i nostri video. Ciao!